Quali sono i pazienti che maggiormente possono giovarsi dell'impiego dell'acido bempedoico? Un nuovo ipolipemizzante arrivato da poco in terapia. Infatti, da poco il farmaco ha avuto il via libera europeo preliminare per la riduzione dei gravi eventi cardiovascolari conseguenti all'ipercolesterolemia. Ne abbiamo parlato con il dottor Claudio Bilato, che abbiamo incontrato a Roma a margine di Lipids in Rome, un evento organizzato dall'AMCO, l'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri. Dottor Bilato, cosa ci dicono gli studi condotti sull'acido bempedoico? Quali sono i messaggi importanti sia a livello di riduzione del colesterolo sia, visto che sono adesso disponibili, anche i dati sugli outcome cardiovascolari? Gli studi che abbiamo sull'acido bempedoico, che possono essere raggruppati in un programma che è il programma CLIRA ormai, sono gli studi molto robusti. Ci dicono che in differenti setting di pazienti, sia nel paziente a rischio cardiovascolare molto elevato, sia nel paziente a rischio cardiovascolare elevato come l'ipercolesterolemico familiare, l'acido bempedoico è efficace nel ridurre il colesterolo LDL con valori di calo di circa il 25-30%. Ma questo che è l'inizio del programma, poi è andato d'oltre perché con lo studio di The Outcome, il cosiddetto Clear Outcome, si è dimostrato che nei pazienti intolleranti alle statine, ed è un dato importante perché era un punto che ci mancava, non c'erano studi su pazienti statini intolleranti, beh dicevo che questi tipi di paziente ancora una volta a rischio cardiovascolare molto elevato, acido bempedoico riduce il colesterolo LDL ma riduce anche gli outcome. La riduzione del rischio ad esempio relativo di avere un reinfarto, uno stroke o la morte cardiovascolare viene ridotta nel follow up dello studio che è di circa 40 mesi del 15%, quindi un dato molto interessante, molto promettente e addirittura molto significativo. Senta, dottor Bilato, come si utilizza questo farmaco? Da solo, in associazione? Come è meglio sfruttare queste sue potenzialità? Noi eravamo abituati con le ultime molecole che sono uscite nel mercato, con gli ultimi studi, a osservare la riduzione del colesterolo LDL del 50-60%, mi riferisco agli anticorpi contro PCSK9, mi riferisco a Inclisiran. Acido bempedoico in realtà ha una potenza ipocolestromizzante che è paragonabile a una statina di moderata intensità, ma questo non deve essere considerato un elemento necessariamente negativo, perché acido bempedoico ha un profilo di sicurezza e ha un profilo farmacocinetico e farmacodinamico che permette l'associazione di questa molecola con tutte le altre molecole ipocolestromizzanti. Ad esempio, se lo associamo a ezetimibe, determina una riduzione di circa il 36-40% del colesterolo LDL, indipendentemente che ci sia a bordo una statina. È ancora molto più interessante, se noi lo associamo ad un inibitore della PCSK9 abbiamo un'ulteriore riduzione del 27%, ma non è tutto, nonostante agisca sulla stessa via metabolica in cui agiscono le statine, possiamo utilizzarlo anche con le statine e in questo caso possiamo ottenere gli stessi cali di colesterolo LDL di circa il 50% utilizzando dosi più bassi di statine, quindi sottoponendo il nostro paziente a un rischio di miagie nettamente inferiore. È un potenziatore di efficacia, possiamo dire così? Possiamo dire che potenzia l'efficacia, è un farmaco molto sicuro e che quindi ci serve ad esempio quando vogliamo aumentare il potere ipocolestromizzante senza aumentare ad esempio il dosaggio con la statina. Vi faccio un esempio, se lo mettiamo assieme ad esempio ad ezetimibe e a torvastatina a 20 mg, quindi un dosaggio molto basso, riusciamo a ottenere un potere ipocolestromizzante di circa il 65%, quindi un dato molto molto importante. Dottor Bilato, caliamoci nella pratica clinica quotidiana, utilizziamo qualche esempio di quelli che lei ha fatto qui nel corso della sua relazione. Innanzitutto un gruppo che lei ha definito coloro che appunto non vogliono prendere le statine perché magari hanno sentito parlare in maniera negativa, temono gli effetti collaterali. Come trattare questi pazienti? Beh, è il tipico paziente reclutato nello studio Clear Outcome. Nel Clear Outcome si reclutavano pazienti con dimostrazione di intolleranza alla statina o che non volevano utilizzare una statina. Sono i cosiddetti pazienti statino avversi che hanno il timore di avere effetti collaterali. Bene, anche tutti noi cardiologi abbiamo questo tipo di pazienti. Io ho presentato il caso di un paziente a rischio cardiovascolare elevato, quindi in prevenzione primaria, ma diabetico, iperteso, sovrappeso. Paziente molto importante da questo punto di vista. Bene, questo paziente con ezetimibe non riusciva ad andare a targa e aggiungendo l'acido bempidoico l'abbiamo portato a valore sotto i 70 mg di cilidro di colesterole LDL. Secondo gruppo, secondo possibile esempio, coloro che non possono assumere gli anti-PCSK9. Sì, direi che ci sono due sottotipi di pazienti. Sono quelli che non possono assumere i PCSK9 e mi riferisco, e questo sostanzialmente per norme regolatorie, perché ad esempio hanno un'età superiore agli 80 anni, ma oggi come oggi sappiamo che ci sono degli ultra-80 anni che sono molto attivi. Io ho il caso ad esempio di un imprenditore molto attivo ancora nella sua attività, lui è un amministratore delegato di un grosso mobilificio dalle mie zone, lui ha avuto un infarto a 81 anni, con l'associazione Statine e Zetimiva non va a target, raggiunge valore attorno ai 71-72, non possiamo ricorrere agli inibitori PCSK9 con il bempidoico, lo portiamo al 55. Oppure l'imprenditore molto giovane, rischio molto elevato, 45enne, che gira il mondo e che quindi non può o non vuole, ma direi che in realtà non vuole, ma è molto difficile, girare con la siringa che contiene l'anticorpo, oppure essere sicuro di arrivare tra sei mesi a fare l'inclusivo. Questo paziente ovviamente non vuole prendere l'anti-PCSK9 con il bempidoico, gli abbiamo assicurato il raggiungimento del target. Senta, ultimo esempio, ma ce ne potrebbero essere anche degli altri, l'ultimo che lei ha fatto qui nel corso della relazione è quello di coloro che non vanno a regime, non raggiungono i target di colesterolo, nemmeno con la triplice terapia, quindi Statine e Zetimiva e PCSK9. Eh sì, questi sono pazienti che noi chiamiamo a rischio cardiovascolare estremo, in cui dobbiamo garantire l'aggiungimento del target, che è molto molto ambizioso, il colesterolo LDL deve stare sotto i 40 mg decilitro. Bene, io ho un caso di uno di questi pazienti, lui è un camionista, parte con valori di colesterolo LDL piuttosto elevati, sopra i 200, ha due eventi coronarici nell'arco di 48 mesi, il paziente deve essere trattato in maniera molto aggressiva, con statina ad alta dose e ad alta intensità, con Zetimib e con, in questo caso, un inibitore della PCSK9, non riusciamo a portarlo a quei valori che vogliamo, cioè sotto i 40, siamo con dei valori superiori, aggiungiamo il benpedoico e con il benpedoico come add-on therapy, come quarto farmaco, riusciamo a abbassare ulteriormente il valore di colesterolo LDL e portarlo al target che vogliamo raggiungere, ovvero sotto i 40 mg decilitro. Dottor Bilato ci ha fatto capire tante cose con questi esempi pratici, un messaggio finale? Un messaggio finale è che questa molecola è una molecola estremamente versatile, è una molecola che si può utilizzare a un unico dosaggio, è in monosimilizzazione giornaliera, è una add-on therapy a tutte le altre strategie di farmaci ipoestremizzanti, riduce gli eventi cardiovascolari, non dà le miagie, è molto ben tollerata ed è molto sicura, quindi è un farmaco che ha questa caratteristica di essere versatile e questa vocazione di poter andare in associazione con gli altri farmaci ipocolestremizzanti. Un jolly, possiamo dire così? Potremmo dire che è un farmaco jolly, ma nel senso positivo, non che lo utilizziamo casualmente, ma è un jolly perché in realtà lo possiamo aggiungere a tutte le nostre strategie di controllo lipidico.